Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ah capito Che sarei io I am hunk I am hunk Semplice semplice Corto corto uno è qua davanti Ma perchè giochi anche lol Eh non devi caricare bro Asshallahallah Ma mi dà il pad Ah è per questo di riprenderlo perchè non lo usano tutti noi Visto? Riconosce che io sono il padrone di questo posto La preghiera è servita Ah c'ho lì davanti Dai dai ci stai vieni con me Riusciamo i piedini Quindi eh Posso riccare i piedi? Porco dio Lui stasso Mangia merda Mangia patate Lippate ragazzi Ti fa sbraccare Ti fa sbraccare Vabbè che un tanto tutti qua è stodera Tene uno dentro di me Dai prendi sto cazzo di cecchino Vaffan Sì vabbè dai tua macchia che la grande buttana O troio bocchina Allora senti bravo Che cazzo ti ho detto Brava 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 Ne peccato Io ho fatto sei hit a uno Ho lasciato commenti di vita All'altro commenti di vita Nella volta che io trovo il pompa a colpo singolo Trovo uno che trova il pompa a ripetizione E che ha vinto? Quello che c'è la madre puttana Ha vinto Spider-mana Spider-mana È anche un po' così nel senso Sì 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 ha ragione Cristo santo Cristo santo No no adesso invece Adesso rimaniamo tutti confidenti Facciamo un po' di Devo dire la cut io Ma che sbocco è Ciao dish 10 casse Oh da dove? Oh mi stanno sniperando Niente non posso editare se c'è la zipline Che cazzo vuol dire? Sai che vogliamo una cerchinata di quella incredibile? Ahahahahahahahahaha Questa una creep Ah va bene vai vai Non riesco a farlo Treccati due Ma vai a fare che uno Porco due l'ho scopato È ucciso? Si uno si Fatti due Chi cazzo ciao sono power caricatore steso 9 4 3 il mio perché esploso l'elicottero con la droga ragazzi che ha preso i guido i soldi ma che cazzo dici ma questo che cazzo è ma fa fa culo ma dai sì ma bilda sto cazzo rincoglioni dovatti a comprare un cervello dai la sta arrestando l'altra sta andando pure c'è il con me c'è il con me non so perché ho provato a box al bisogno ragazza stanno c'è il bombato la testa tra me tu mi hai fatto fare questa cosa ma ti lo devi cavare allora vai sulla tua foto in alto a sinistra sulla mia foto in alto a sinistra si cliccaci sopra poi fai il mio canale dove sta scritta eeeeh ma non è poco tieni anche colpi vicini tieni anche tratto cosa ivan oh ti ricordi dei tempi che tempi mi ricordo nulla 99 quanti carriamo asculti ma se asculti tipo ora asculti è tipo un goddicelle però con le meccaniche tipo di un canguro te ricordi asculti c'è qua? che cazzo asculti? quando avevo provato tipo io ravevo negli asculti ahhh tipo salti con la cuore si si no c'è la prova di questo andavo a vedere wavy bro mi cecchina in testa dentro pronto pronto dentro full amount di meta nooo wavy bro che mi devi chiedere in testa porco zio wavy bro fm calmo calmo sto arrivando sto arrivando vedo tutto all'alto vedo un tipo vieni vieni ma come cazzo è passata da me non vediamo sto mio 172 a castle a castle a castle no a castle no pusciamo 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 you fought me you fought me questo è un fun e si godeee clap clap uff quanti che l'abbiamo fatto dove cazzo ma dove cazzo sta non ho capito un cazzo ma questo du passi ma dove l'ha fatti ma da dove è arrivato questo rincoglionito ma non l'ho sentito ma dove stava da dove era dentro da dove è uscito dalla porta dalla porta vabbè ma questo che cazzo di arma aveva homie corri corri ma non scappare ma che vinc nipers avete visto un pompa perché ho